Ciao a tutti, oggi super giornatina ad Aomori nel nord del Giappone questo qua è proprio il ponte diciamo che rappresenta al meglio la città insieme all'aspam e varie cose che avete visto in altri miei video di anni e anni fa sono andato qua a fare una piccola merendina con torta alle castagne e quiche agli asparagi sono più o meno le 10 di mattina, dopo farò un bel giretto, ovviamente il caffettino dopo farò un bel giretto e poi vi faccio vedere altre cosette qua ad Aomori comunque comprerò anche delle patatine che si chiamano i moiro che poi vedrete in un altro mio video, sono spettacolari, ce l'hanno da assaggiare buonissime, favolose adesso vado ad assaggiare per voi un attimino la quiche anche se è un po' caldina, mi sa che, vediamo se ce la faccio mettiamo solo vediamo di fare tutto per voi tutto per voi questa quichetta buona buona e la torta alle castagnette buona anche questa buona perché sembra un po' tipo casalinga naturale, casalinghetta colazione da Aomori, che buono buono questo caffè molto, veramente buono di solito a me il caffè noio piaccia particolarmente prendendo tanto per questo video è tutto l'intervista dal mio sito www.marketani.it colazione da Aomori e al prossimo video dal Giappone ciao ciao ciao